Antipasto di campionato per le abruzzesi di Serie D col primo turno di Coppa Italia che vedrà in campo 4 delle 5 partecipanti al prossimo Girone F. Un derby, quello del Mariani Pavone di Pineto dove i parroni di casa affrontano il notaresco, formazioni profondamente rinnovate, specie il Rosso Blu che dopo l'addio di Salvatore Di Giovanni hanno ridisegnato completamente il progetto calcistico. Continuità con Amalo in panchina invece per il Pineto che come ultimo arrivo in ordine di tempo ha ingaggiato il difensore classe 2002, Luccarini. Per lui sette presenze in Serie D nella stagione 2019-2020 con la Iesina e tanta gavetta in eccellenza con il club marchigiano. L'ultima sgambata di Montorio ha confermato quanto i biancazzurri siano formazione attrezzata per lottare ai massimi vertici del raggruppamento. A Notaresco invece c'è entusiasmo per il nuovo progetto, è un roster che è un mix tra giovani e meno giovani ma con la consapevolezza che va messa prima in sicurezza la categoria. Sfida particolare per Francesco Maio, freschissimo ex di questo turno di Coppa. Il bomber del Pineto affronta quel notaresco che l'anno passato, pur tra mille difficoltà, ha tenuto spesso in piedi con tanti gol. L'attaccante Palmisano e il difensore Spinelli invece sono gli ultimi arrivi in casa Chieti, anch'esso molto diverso rispetto a quello della passata stagione. I neroverdi di Corrado Cotta se la vedranno con quel porto d'Ascoli che una settimana fa nel turno preliminare hanno eliminato l'Avezano regolandolo per 2-1. Per Palmisano si tratta di un ritorno ma è evidente che Chieti avrà bisogno di tempo per amalgamare una rosa nuova e che sarà presentata dopo il match di Coppa alle 21 in Piazza Vico. Un modo per raccogliere il calore della tifoseria per poi buttarsi a capofitto sulla prima di campionato del 4 settembre contro quel vasto Girardi che invece sarà l'avversario di una vastese che ha messo a segno nelle ultime ore in attacco il colpo Giovanni Ricciardo che però come minchillo dovrebbe partire dalla panchina. Anche qui per Ferrazzoli servirà tempo per dare l'assetto definitivo ad un organico che vede appena due superstiti della passata stagione, Sansone e Altobelli. Ma l'arrivo di Ricciardo cambia gli equilibri davanti soprattutto perché si parla di un attaccante che è una carriera condita da esperienze importanti e vincenti e nelle quali ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi grazie al vizio del gol che non gli è mai mancato. Il reparto offensivo biancorosso che aveva già a disposizione Di Nardo e Calì che partiranno domani dall'inizio con l'arrivo di Ricciardo si dota di una bocca da fuoco come in giro. Ce ne sono poche.